Video sull'ascesa di Carlo Magno e tutto quello che è successo nei dettagli. Non c'è dubbio che Carlo Magno sia una delle figure più rivoluzionarie nella storia dell'Europa. Nato nell'anno 742, era figlio di Pipino il Breve, re dei Franchi. Carlo Magno ereditò il trono dal padre nel 768, dividendo il regno con il fratello Carlo Manno. La convivenza non fu pacifica e alla morte di quest'ultimo nel 771 Carlo divenne l'unico regno dei Franchi. Una delle sue prime azioni come sovrano unico fu di espandere i suoi confini. Sconfisse i Sassoni, un popolo germanico pagano, e li convertì al cristianesimo. Con questa mossa Carlo Magno dimostrò il suo desiderio di unificare l'Europa sotto una sola religione. Nel 744, Carlo Magno si recò in Italia per soccorrere il papa Adriano Primevo, minacciato dai Longobardi. Con questa vittoria, Carlo divenne re dei Longobardi e ampliò ulteriormente il suo regno. Negli anni successivi, Carlo continuò ad espandere il suo impero, conquistando la Baviera e la Sassonia. Il suo regno, che si estendeva dalla Spagna all'Ungheria, divenne noto come l'Impero Carolingio. Nell'800, Carlo fu incoronato imperatore dei Romani dal papa Leone Terteso, in segno di gratitudine per il suo sostegno. Questo atto simbolico segnò l'inizio del Sacro Romano Impero, unificando l'Europa occidentale sotto un unico sovrano. Durante il suo regno, Carlo Magno promosse anche l'istruzione e la cultura. Creò scuole per i giovani nobili e incoraggiò lo studio delle arti e delle scienze. Questo periodo di rinascita culturale è noto come la Rinascita Carolingia. Nonostante le sue numerose conquiste, Carlo Magno fu anche un governante saggio e giusto. Promulgò leggi per proteggere i poveri e i deboli e lavorò per migliorare la vita dei suoi sudditi. Carlo Magno morì nell'814, lasciando un impero che aveva profondamente cambiato il volto dell'Europa. I suoi successori continuarono a governare l'impero carolingio, ma nessuno riuscì a eguagliare la grandezza di Carlo. In conclusione, Carlo Magno è una figura di grande importanza nella storia europea. Con le sue conquiste e le sue riforme, ha cambiato il corso della storia e ha gettato le basi per l'Europa moderna. Iscriviti al canale Storia Leggera e lascia un like al video. Storia Leggera